Questa è una scuola che da tanto, come diceva il signore, i ragazzi che poi vogliono andare lavorano tutti, fidatevi, anche con un buono ottimo riscontro dal punto di vista della gratificazione questionale, cioè del tipo di lavoro che fai, i ragazzi che escono da questa scuola qua addirittura possono scegliere dove andare. Terna, sapete cos'è Terna? Terna è l'azienda che si occupa della distribuzione dell'energia elettrica sul territorio. Ha difficoltà a trovare ragazzi usciti da qua, sia ai studenti sia ai genitori, viene assegnato un username e una password, agli studenti anche un badge elettronico che gli serve per attestare una loro presenza all'ingresso, ok, e l'uscita eventualmente i ragazzi dovesse uscire anticipatamente. A cosa servono username e password? Credo che questa è una scuola altamente informatizzata, computer ne troverete quanti ne volete, lo vedrete, non c'è bisogno che ve lo dico io. I computer sono tutti collegati in vete tramite una internet, una rete interna, che poi si interfaccia con la rete esterna con l'interno. Diffici da creare, però una volta capiti si possono creare facilmente, però prima comune che si fa sempre sono più. anche se abbiamo disposizione il praticante. Partendo dal disegno dell'oggetto, portato dall'opera, oppure dal programma consegnato da me sui programmi, di realizzare in modo automatico la lavorazione. Dalla lavorazione, automaticamente mi dà il codice NG per la macchina e poi la macchina il pezzo ha il modo rotatorio, poi c'è il modo di avanzamento che invece è in questa direzione. Allora, in questo caso sta facendo una sfacciatura, montato come si stesse facendo una sfacciatura, quindi si muove in questa. Adesso non dobbiamo allontanarci leggermente perché sennò gliela roviniamo. Questo qua, questo strumento in laboratorio, si chiama pallone o matraccio e all'interno di questo pallone abbiamo una soluzione. Questa soluzione sta realizzata con l'idrossido, il glucosio e l'indicatore, questo indicatore si chiama burdimetilene, in questo caso è allo 0,1%. Se volete vi posso far vedere anche com'è il glucosio, noto che sicuramente forse l'avete sentito parlare. Il glucosio è una polvere bianca, chiaramente va sciolta in acqua, e questo qua invece è un altro idrossido di sodio, vedete? che è appunto sciolto di questa soluzione, provoca una liberazione, diciamo, di elettroni che appunto con il nostro glucosio di mitilena andrà a colorare la nostra soluzione. Agitiamo vigorosamente. leader e farà curriculum, andare in azienda e dire io so usare questo software, io so usare AutoCAD, io so usare Inventor, io so usare il pacchetto office, sicuramente fa curriculum. Qui nelle schermate, vedete, stiamo facendo disegnare ragazzi, dei semplici depositi, magazzini in 2D, in pianta o in 3D. Qui ho fatto un esercizio del tipo, abbiamo dato un deposito con tutte le varie scaffalature e loro devono riuscire a ridistribuire tutta la scaffalatura. Quindi dalla generazione dell'energia elettrica, la produzione, la distribuzione e realizzazione dell'energia elettrica, all'energia elettrica utilizzata per automatizzare le macchine, quindi noi ci occupiamo anche dell'automazione delle macchine industriali. E per macchine industriali intendiamo, dalla macchina più semplice e economica, come può passare ad esempio con il mio proiettore, poi li fanno i controlli che accette i comandi dal telecomando o dai pulsanti, al distributore di bevande che anche quello è automatizzato. Le macchine, quindi macchine da packaging, addirittura fanno magazzini automatici, quindi qui c'è tutta la punta di diamante dei materiali che oggi vanno per la maggiore, insomma. La richiesta supera di gran lunga il numero di fermati offerti, perché la metà va all'università. Gli elettrotecniche escono una ventina, i venti, i tanti ragazzi all'anno, all'interno delle canale. Successivamente si passano invece agli impianti più complicati. Questo è un pannello di tipo industriale e serve principalmente per far fermare la macchina col pulsante di stop o avviarla con i due pulsanti avanti e indietro. Vi è poi un tasto di emergenza che serve per bloccare la macchina nell'istante in cui si preme e blocca l'utilizzo della macchina. Il C è la base di tutti i linguaggi di programmazione, quindi fare bene quello ti servirà sempre a Marti, negli altri anni che è successo fare anche dalla scuola per tutti gli altri linguaggi. E poi vi andremo a vedere a Zandero, grazie per i pannelli. E poi man mano che andremo a andare inizio, quindi dalle letranze. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti